Presidente, solo per dire dell'importanza di questi due trattati, due trattati fondamentali appunto tra il nostro Paese e gli Emirati Arabi Uniti, trattati appunto da una parte per l'estradizione e dall'altra per l'assistenza giudiziaria. È una cosa secondo me importante, fondamentale, perché vedere che alcuni Stati magari lo vedevano come un osi felice per andare lì e non scontare la pena, riuscire a dare la parola definitiva a questo strattato per vedere delle persone che hanno commesso dei reati in molte materie, rivederli, venire in Italia a scontare la pena, penso sia qualcosa di giusto, equo e anche importante per il nostro Paese. Interessante il punto sulla reciprocità, ma un punto veramente importante di reciprocità da un punto di vista mio personale spero che la reciprocità si faccia in tantissimi altri settori, perché è qualcosa ed è un valore fondamentale. Per quanto ci riguarda lo riteniamo una cosa fondamentale per il nostro Paese e approfitto di un ringraziamento a tutte le autorità giudiziarie, a tutte le forze dell'ordine che hanno portato a ritrovare questi criminali all'estero e li hanno individuati. Grazie Presidente.